Allora abbiamo un tubo e un coniglietto di colore grigio meravigliose guarda copriamo il coniglietto con il tubo lo porto via la schiena così e magicamente basta fare questo gesto e il coniglietto diventa un po' di colore nooo questa è magia guarda è stagliato niente ho convinto guarda lo rifacciamo lo rifacciamo perché ho convinto poco secondo me lo prendo e lo rifaccio qua nella schiena basta un gesto magico in questa maniera il coniglietto di colore siiii che meraviglia buonissimo sta dietro secondo me dietro no dietro no dietro no dietro qui si non io sono ma la